Siamo a Gallarate con Ilaria Lai, titolare dello Spazio 23, un'occasione di una serata davvero speciale, perché si inaugura una collaborazione con Buscadero. Sì, allora per i 40 anni dalla nascita della rivista, che è appunto il Buscadero, partiamo stasera con un gran bel concerto, infatti sono molto contenta di avere i borderline qui allo Spazio 23 e sarà solo il primo di una serie di eventi molto interessanti. Ci saranno anche delle presentazioni di libri e di dischi, sempre qua allo Spazio 23, grazie a Paolo Caru che ha i contatti, che collabora con noi volentieri, proprio perché abbiamo uno spazio per mantenere questa tipologia di eventi, questa situazione di emergenza. E' così che grazie ad Andrea Parodi sono arrivata a contattare anche Paolo Caru e Buscadero e noi vediamo insomma di fare delle belle cose qui allo Spazio 23. Sì, infatti oggi questa collaborazione è una grande opportunità di avere qui a Catanate che è un luogo così bello, che ti catapulta in un'altra dimensione, sembra di essere a New York, anzi a Brooklyn, a Bushwick dove ci sono questi loft con i mattoncini rossi. E questa sera abbiamo provato a portare un po' di musica tra Stati Uniti e Messico e grazie alla collaborazione con Carlo Dischi e Buscadero succederanno delle cose molto belle nelle prossime settimane. Adesso speriamo che dobbiamo resistere in questa fase dove ci sono tante limitazioni, ma sogniamo e odiamo altri perché Buscadero ci ha insegnato che le distanze si accorciano e questo è veramente il luogo ideale per far avverare questi sogni, queste settimane che verranno, in questi anni che verranno. Buscadero ci ha insegnato che le distanze si accorciano e le distanze si accorciano, Buscadero ci ha insegnato che le distanze si accorciano e le distanze si accorciano,